bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabriel e io birillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esplosio c'è ma per tutti i ragazzi ecco qua cinema un liquidozzo per i degustatori colpato fine un liquido al pop corn e crema carana un po vanigliato ora devo fare una prova recensione di questo mega liquido e ricordiamo svapo caffè andate che c'è un botto di liquidi nuovi andate a fare in giretto da svapo caffè ricordiamo marina di carara moriciara e la spezia vagabili drippalo allora andrò a dripparlo sul ganico druga ci stiamo un po provando questo tubetto qui che da poco abbiamo preso però funziona bene che piace ci piace 0 nicotina ricordiamo solo liquido che a nicotina fa male la resistenza 0 10 come al solito sul tubetto cinema 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 per tutti buono non mi piace tra me giusto io sento la vaniglia e poi cremoso così dolce e poi tipo cosa poco con e leggero si l'odore che rilascia il suo tempo di poco con ma subito si vera va migliato caramello si tipo patina crema che tra l'agore una prova di ripari ti senti subito la crema catalana e poi arriva a poco fumo ne fa 70 30 fa un botto un bel liquidino boccita unicorn però va bene che voto ci dà il gabbia questo io le do otto e mezzo anche io otto e mezzo bello dolce sono cremosi che ci piaceva a noi lo consigliamo con day all day a noi lo smaga un tiro tira l'altro perché poi con questo tubo viaggia bene al buona che molto ma buona sembra di essere dentro da boss dei tuoi che si come si chiama toni balano e si toro non mi ricordo allora ricordate che già abbiamo il canale su instagram e su facebook veniteci a trovare stiamo crescendo piano 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 con nostri video strani vi aspettiamo ragazzi non ci derudete veniteci a trovare la tavola lo sma per tutto un bacio